Raccogliendo idealmente il filo che congiunge questa nostra lettura con la scorsa lettura, dobbiamo iniziare con questa pagina straordinaria, vorremmo usare anche questo aggettivo un po' giovanilistico, strepitosa, che è il capitolo primo, il canto di Davide per la morte di Saul, nel capitolo primo del secondo libro di Samuele. È un testo che ora leggeremo insieme, si trova nei versetti 17-27 di questo capitolo e costituisce uno dei capolavori in assoluto della poesia ebraica. Uno dei capolavori ma anche uno dei testi più attraversati dai sentimenti di un uomo, tant'è vero che gli studiosi sono fermamente convinti che qui siamo in presenza di una testimonianza diretta di Davide stesso. Voi sapete che Davide è stato messo quasi appatronato di tutta la raccolta salmica, mentre gli studiosi sono fermamente convinti che si tratta soltanto di una presenza forse sporadica in qualche raro testo. Nel nostro caso c'è la convinzione che qui la firma di Davide sia presente non solo per l'antichità stessa del dettato, ma soprattutto per questa altezza profonda dei sentimenti che si sposano con l'esperienza di quest'uomo così come emerge nell'interno di tutto il ritratto che la Bibbia fa di lui. Innanzitutto cominciamo ad ascoltare l'antifona. Il testo ha un ritornello. Vi ho già detto che si tratta di una kinà dal ritmo singhiozzo, dal ritmo spezzato, catalettico come si dice tecnicamente, un testo che ha in sé una sua ritmica ed è per questo che deve essere scandito dai ritornelli, un testo che deve essere in realtà cantato, magari secondo una di queste melopee orientali che ancora noi conosciamo e che sono simili a spirali sonore che salgono verso l'alto senza mai avere un filo ben definito ai nostri occhi, assomigliando piuttosto a una semplice pura ripetizione. L'antifona l'abbiamo trovata e penso che l'hanno vista tutti quelli che hanno letto personalmente il testo, nei versetti 19, nel versetto 19, 25 e 27. Ed è sostanzialmente una domanda caratteristica delle suppliche, è contrassegnata dal perché. Perché sono caduti gli eroi? Poi nel versetto 25, perché sono caduti gli eroi in mezzo alla battaglia? E nel versetto 27, perché sono caduti gli eroi? Sono periti quei fulmini di guerra? Come vi accorgete il ritornello, l'antifona increscendo, aggiunge una pennellata in più ad ogni movimento, diventando quindi sonoramente più forte. Tra l'altro in ebraico il testo questo dell'antifona e un po' tutto quello di questo poemetto è contrassegnato dalla rima, in maniera particolare da una rima. Le alture, le colline, bamot, terumot in ebraico, fanno assonanza con la parola tragica per eccellenza. Mot, che significa morte. Quindi c'è un ideale filo nero, musicale proprio, che percorre questo testo. Il testo è poi costruito su tutta una serie di contrasti, di coppie quasi, coppie verbali. Non sono in realtà contrasti, sono degli elementi che si compongono poi nell'insieme a contrasto, ma che in sé sono paralleli tra di loro. Abbiamo per esempio la pioggia e la rugiada, l'arco e la spada, le aquile e i ironi, il sangue e il grasso. Ma soprattutto, soprattutto, c'è quella invocazione appassionata che Davide indirizza agli due personaggi che sono morti, Saul e Jonathan. Egli li chiama amabili e cari, amabili e gentili. E ancora, nell'interno di questa costruzione quasi adittico, adittico continua, emerge anche una contrapposizione di feste. Da un lato c'è la festa delle figlie dei filistei, i quali cantano e trionfano per la morte del loro nemico, del loro avversario. E dall'altra parte c'è la celebrazione funebre, col pianto delle figlie di Israele, le donne che costituiscono quasi come una specie di solenne coro greco antitetico, posto agli antipodi. E ancora abbiamo quella descrizione indimenticabile nel versetto 21, una specie di grande solenne maledizione che viene scagliata contro i monti di Gilboa, cioè i monti di Gelbo e che hanno visto la morte di Saul e di Jonathan. O monti di Gelbo, e si dice nel versetto 21, non più rugiada né pioggia su di voi né campi di primizie, perché qui fu avvilito lo scudo degli eroi, lo scudo di Saul unto non di olio ma col sangue dei trafitti col grasso degli eroi. Ecco, questa imprecazione contro i monti della rovina, della disfatta, è diventata tra l'altro curiosamente realtà nell'interno della tradizione di Israele, dello stato ebraico attuale. Lo stato ebraico infatti ha impedito che su questi monti venissero fatti, come è avvenuto in tante altre parti, in tante altre regioni della terra di Israele, ha impedito che si facessero delle coltivazioni, si piantassero degli alberi, proprio perché la parola di Davide, la maledizione di Davide non fosse in qualche modo frustrata. O monti di Gelbo è non più rugiada né pioggia su di voi né campi di primizie. Ma soprattutto l'elemento principale è il più commosso, il più umano e lo abbiamo già ricordato l'ultima volta annunciando questo testo è nel versetto 26, perché vi dicevo quattro volte risuona il nome di Saul, quattro volte quello di Jonathan, l'ultimo però a risuonare è quello di Jonathan, l'amico carissimo. L'angoscia mi stringe per te fratello mio Jonathan, anzi nel versetto 25 si diceva, Jonathan per la tua morte sento dolore, l'angoscia mi stringe per te fratello mio Jonathan, tu mi eri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna. Noi sappiamo che c'è stato soprattutto uno studio, in realtà al di là di qualche mormorazione giornalistica o così popolare attorno alla figura di Davide, alla coppia Davide e Jonathan, ci fu soprattutto nel 1978 uno studio pubblicato a Filadelfia, l'autore era un certo Tom Horner, il quale aveva intitolato questo studio Jonathan loved David, Jonathan amò Davide e il sottotitolo era l'omosessualità ai tempi biblici e la convinzione sua era che si trattasse proprio nell'interno di queste pagine di una celebrazione dell'omosessualità quasi, un'omosessualità che era incarnata nell'interno di questi due, come avviene spesso anche nei miti, nell'interno di due che appartengono a due campi ostili e che vengono invece vinti e allegati, legati tra di loro dall'amore. In realtà altri studiosi già da tempo avevano fatto notare, come già vi dicevo, che la terminologia usata in realtà ha una potenzialità diversa, sembra essere molto di più connessa a un lessico politico che indica molto di più le connessioni, le coalizioni che avvengono nell'interno dei clan. Era quindi anche probabilmente un'operazione di tipo politico, però io non voglio assolutamente escludere soprattutto dall'interno di questo versetto così dolce, così intenso, che non si debba almeno riconoscere la trasparenza e la bellezza suprema dell'amicizia come un dono straordinario, prezioso più di ogni altro dono. E a questo punto ascoltiamo almeno una volta il testo. Mi spiace, lo dico ancora, mi spiace soprattutto per due handicap da cui io parto. Il primo del non potervi leggere l'originale ebraico che è infinitamente armonico, infinitamente dolce, infinitamente difficile da tradursi proprio per questa sua finezza straordinaria. In quel caso si potrebbe veramente, sapendo naturalmente il testo, riuscire a vedere tutte le iridescenze che le parole hanno, tutti gli ammiccamenti, tutta la musicalità che il verso ha in una lingua che invece ha in sé è una specie di asprezza caratteristica proprio del suo essere stata generata nell'interno del deserto, del venire un po' come, dell'essere simile come le pietre della steppa alle pietre del deserto di Giuda. Dall'altra parte mi spiace anche di non essere un attore per non leggere e non riuscire a leggervi quindi il testo con questa straordinaria forza che ha in sé, con questa autenticità assoluta. Il tuo vanto, Israele, sulle tue alture giace trafitto. Perché sono caduti gli eroi? Non fatelo sapere in Gat. Non l'annunziate per le vie di Ascalon, le città dei Filistei. Non ne facciam festa le figlie dei Filistei. Non ne esultino le figlie dei non circoncisi. O monti di Gelboe, non più rugiada, né pioggia su di voi, né campi di primizie, perché qui fu avvilito lo scudo degli eroi, lo scudo di Saul, unto non di olio ma col sangue dei trafitti, col grasso degli eroi. L'arco di Gionata non tornò mai indietro. La spada di Saul non tornava mai a vuoto. Saul e Gionata, amabili e gentili. Né in vita né in morte furono divisi. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Figlie di Israele, piangete su Saul, lui che vi rivestiva di porpora e di delizie, che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Perché sono caduti gli eroi in mezzo alla battaglia? Gionata, per la tua morte sento dolore. L'angoscia mi stringe per te, fratello mio Gionata. Tu mi eri molto caro. La tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. Perché sono caduti gli eroi? Sono periti quei fulmini di guerra? E a questo punto Davide è in scena, pienamente in scena. Se vogliamo per un momento dare una trama di lettura dei due libri di Samuele, attraverso i protagonisti, potremmo un po' riassumerli così. Guardare ciò che sta alle nostre spalle, nelle letture che abbiamo già fatto, e guardare di fronte alle letture che ancora ci attendono. In passato, primo libro, nei primi otto capitoli, al centro c'era la figura, si stagliava la figura di Samuele. Dal capitolo nono al quindicesimo appariva la figura di Samuele, la doppia figura di Samuele e di Saul. Dal capitolo sedicesimo fino al trentunesimo del primo libro, del primo libro di Samuele, dominavano le due figure di Saul e di Davide. E fin qui la nostra lettura. Samuele, Samuele e Saul, Saul e Davide. Ora invece comincia il grande protagonista, l'unico protagonista che occupa tutta la scena, anche se circondato da personaggi di alta statura, nei capitoli 1-6 è Davide re in scena. Dal capitolo 7 al dodicesimo potremmo intitolare così, e lo vedremo, non so se riusciremo già questa sera, potremmo intitolare questa sezione, Promessa e peccato. La promessa divina è il peccato di Davide. Dal capitolo tredicesimo al ventesimo emerge quella storia amarissima, il figlio ribelle a Salonne, che è tentato persino di arrivare al parricidio. E da ultimo, dal capitolo 21 al 24, abbiamo gli ultimi atti di Davide. Abbiamo quindi una sequenza in cui Davide, Davide pecca pur essendo eletto da Dio, in cui Davide vede la miseria che si incunea nell'interno della sua famiglia, in cui Davide alla fine conclude la sua esistenza ancora tra sofferenza. Come già vi dicevo, la figura di Davide è trasfigurata poi. Nell'interno di questi libri appare nella sua realtà. Ed ecco allora noi cerchiamo subito di affrontare la prima parte. La prima parte che vorrei considerare è quella dei capitoli 1-6, quindi il primo l'abbiamo già visto, dove è in scena la figura di Davide che finalmente è re. Noi sappiamo che era già stato unto, consacrato re, ma era avvenuto questo in segreto, solo sotto l'occhio vigile di Samuele. Ora invece la sua investitura avviene in una maniera solenne. Io vorrei farvi notare in maniera particolare un dato. Nel capitolo 2 abbiamo un versetto che dice, versetto 14, che dice, in Ebron egli viene riconsacrato, viene ancora riconsacrato, nel versetto 4 anzi, e si dice, vennero gli uomini di Giuda e qui unsero il re David nella casa di Giuda, sulla casa di Giuda. questo versetto è significativo perché ci dice dove Davide viene innanzitutto consacrato re. Egli inizialmente è solo re della sua tribù. Evron era una delle grandi città care alle memorie di Abramo ed era nell'area della regione di Giuda, nel sud, nel profondo sud. Egli è un meridionale. Nel capitolo 5 invece, i primi quattro versetti del capitolo 5 ci fanno vedere che poi egli riesce a cooptare il consenso di l'intera nazione, di tutte le tribù. Vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide in Ebron e gli dissero, ecco, noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto, tu pascerai Israele mio popolo, tu sarai capo in Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re in Ebron e il re Davide fece alleanza con loro in Ebron davanti al Signore ed essi unsero David re sopra Israele. David aveva trent'anni quando fu fatto re e regnò quarant'anni. Una numerazione abbastanza simbolica e perfetta, quarant'anni di regno. Regnò sette anni soltanto, si dice dopo, in Ebron su Giuda e il resto dei suoi anni su tutto Israele. Notate bene questa consacrazione che viene fatta da tutta la nazione, da tutto il popolo. Idealmente si vuole riconoscere che il re David è riconosciuto quasi democraticamente come l'alfiere della nuova unità nazionale. Ma la cosa che ora in questi capitoli dall'1 al 6 vorrei farvi notare, le cose anzi che voglio farvi notare sono due, di due tipi, su due registri. Il primo è la testimonianza che queste pagine contengono di una operazione politica. Davide è anche, per certi aspetti almeno agli inizi, abile politicamente. Poi il suo genio politico si offuschierà e come ho già avuto occasione di dire, lo vedrete già adesso, sarà offuscato da una figura misteriosa e torva che sta nell'ombra e che comprime probabilmente David. Si tratta del suo nipote, il figlio di sua sorella Zeruia, il generale Yoab, implacabile e abilissimo politico, oltre che militare. L'opera di mediazione politica la si vede subito. Davide tenta lentamente di ristabilire i fili col partito che sosteneva Saul. C'era questo partito, certo, era stato sconfitto, ma egli vuole stabilire una connessione. Per esempio, ecco come si comporta nel capitolo 2, nei versetti 5 e 7, con la città di Jabesh di Galad, una città che era transgiordanica, la quale aveva sepolto Saul. Leggiamo come fu noto a David, il versetto 4 del capitolo 2, che gli uomini di Jabesh di Galad avevano sepolto Saul. David inviò messaggeri agli uomini di Jabesh di Galad per dir loro, benedetti voi dal Signore, perché avete fatto quest'opera di misericordia a Saul vostro Signore e gli avete dato sepoltura. Vi renda dunque il Signore misericordia e fedeltà. Anch'io farò a voi del bene, perché avete compiuto quest'opera. Ora riprendano, coraggio, le vostre mani e siate uomini forti. È morto Saul vostro Signore, ma quelli della tribù di Giuda hanno unto me come re sopra di loro. Come vedete fa capire che ormai il potere è andato in mano a lui, sia pure soltanto circoscritto per ora la tribù di Giuda e fa capire allora i vantaggi a loro, a questi abitanti transgiordanici, i vantaggi del passare sotto il suo regno. Egli dimenticherà che essi sono stati con quello che era pur sempre il suo avversario Saul. Ancora un'operazione abbastanza interessante che io non posso leggervi in tutti i particolari, ma che voi troverete descritta finemente nel capitolo terzo. Era, se era salvato, alla grande strage, alla grande rotta dell'esercito di Saul, il capo di stato maggiore, il comandante generale, il generale Abner. Questo generale, per altri versi anche in passato un uomo capace, aveva ancora, godeva di una sua fama, di un suo credito, e voi vi accorgerete leggendo che Davide cerca di stabilire un contatto, un contatto che ormai fiorisce, soprattutto fiorisce perché era restato ancora un erede di Saul, un figlio debole, malaticcio, Isbal, che sarebbe potuto diventare lentamente magari il vessillo di una rivoluzione interna contro il potere di Davide. E Davide capisce, promettendo molto ad Abner, promettendogli quasi certamente una posizione nell'interno del suo gabinetto, una posizione ministeriale, gli promette questo perché egli abbia da attrarre a sé anche tutti coloro che ancora avevano qualche velleità nei confronti della monarchia precedente, della dinastia precedente. Ma su questo veglia inesorabile Joab. Joab capisce che l'ingresso di un alto militare e politico, come era Abner, voleva dire probabilmente la caduta del suo potere o ridimensionamento. Ed ecco allora noi leggiamo soltanto questi versetti nel capitolo terzo, sono i versetti 27 e 29. Dopo aver avuto udienza da Davide, Abner tornò a Ebron e Joab lo prese in disparte in mezzo alla porta, come per parlargli in privato. E qui lo colpì al basso ventre e lo uccise per vendicare il sangue di Asa e il suo fratello. Davide seppe più tardi la cosa, ecco l'impotenza del re, e protestò. Sono innocente, io e il mio regno, per sempre davanti al Signore del sangue di Abner, figlio di Ner, ricada sulla testa di Joab e su tutta la casa di suo padre. Nella casa di Joab non manchi mai chi soffra gonorrea o sia colpito da lebbra o maneggi il fuso, chi cada di spada o chi sia senza pane. Come vedete pronuncia una retorica, oratoria, maledizione e imprecazione contro Joab e la sua famiglia, ma non osa prendere nessun provvedimento nei confronti del suo terribile nipote. E io vi ho già detto che anche quando sarà per morire, affiderà l'erede al suo successore, di vendicare tutti i delitti compiuti da questo sanguinario figlio di Zerui a mia sorella. Isbal, un'ombra di re ormai. Isbal, il figlio di Saul, allora ha ormai il destino segnato. 4.1, capitolo 4, versetto 1, basta solo questa pennellata, poi la storia la leggerete voi, quando il figlio di Saul seppe della morte di Abner in Hebron, gli cascarono le braccia e tutto Israele si sentì scoraggiato. Certo, può anche darsi che avendo liquidato Abner si sia fatta una scelta felice, politicamente parlando, da parte di Joab, anche per lo stato futuro di Davide. Non c'era più nessun rischio che qualche velleità, velleità di regno, velleità di trono, sorgesse. Davide aveva mostrato il suo volto feroce, sia pure per interposta persona. Questa era la prima considerazione. Vedete, abbiamo un po' anche il respiro direi un po' oscuro e torbido delle congiure di palazzo, della politica. Un respiro che tra l'altro ha, sì, per altri aspetti invece, un respiro più ampio quando si parla delle vittorie sui filistei che intanto Davide comincia invece a realizzare. A contrabbilanciare questo aspetto molto concreto c'è invece un altro elemento, un elemento che incontriamo nell'interno dei capitoli 5 e 6. La grande scelta di Davide e per questa scelta Davide acquista una statura straordinaria. Comincia a sorgere e a diventare una delle figure in assoluto tra le più alte della storia di Israele, la determinazione della nuova capitale. Hebron era al sud. Egli ha bisogno di scegliere una capitale che non sia troppo contrassegnata. Se appartiene a una tribù, se è nel territorio di una tribù, automaticamente è come scegliere quella tribù stessa in posizione di prevalenza. Hebron era la tribù di Giuda, la sua tribù. Ed ecco l'astuzia allora di Davide in questo caso. Egli sceglie una città che era come una specie di enclave straniera, una specie di repubblica di San Marino indipendente nell'interno del tessuto dello Stato che ormai si era in qualche maniera configurato. In realtà dobbiamo dire che nonostante che fossero già passati ben due secoli dall'arrivo degli ebrei nella terra promessa, la conquista, così come era stata descritta da Giosuè, una conquista fulminea, tutto Israele, tutto in un solo istante, era in realtà semplicemente un'estrapolazione teologica. Era semplicemente una rappresentazione spirituale, religiosa, per mostrare che questa terra c'era stata donata da Dio. In realtà Israele aveva dovuto conquistare questa terra, non solo a prezzo di molto sangue, ma anche con molta fatica, tant'è vero che due secoli dopo c'è ancora un centro, tra l'altro in una posizione strategica, si trova proprio nel centro di Israele ed è come vedremo in una posizione spaziale assolutamente munita, fortificatissima, c'è ancora un centro, una città, Gerusalemme, che è occupata da una tribù cananea, la tribù dei Gedusei. Ed è in questa occasione che Davide allora fa la sua scelta. Sceglieremo una città che non ha ancora nessuna connotazione precisa e in essa io stabilirò il mio stemma, diventerà per eccellenza la città di Davide e da allora la si chiamerà proprio così. Voi potreste dire ma nel capitolo quattordicesimo della Genesi, quelli che sanno bene la Bibbia, c'è la famosa storia di Melchisede che era re di Shalem, re di Salem, cioè Gerusalemme. Negli scritti anche egiziani il nome Gerusalemme già appariva in passato, Urusalima. In realtà gli studiosi sono convinti che quel testo è un testo posteriore, che viene usato per giustificare in maniera retrospettiva l'antichità di Gerusalemme, per dare a Gerusalemme una dignità che va oltre anche Davide stesso e che affonda sempre le sue radici nell'interno delle tradizioni patriarcali. Il Salmo 110 andrà in avanti e usando il capitolo quattordicesimo della Genesi, non dimentichiamo che il Salmo 110 è un Salmo messianico, diventerà un Salmo monarchico, diventato poi messianico, affermerà niente meno che un sacerdozio del re di Gerusalemme sulla base, sul filo di quel sacerdozio che aveva il re Melchisedec, il cui nome significa re di giustizia, che era l'antico re di Israele. Vedete che attraverso questi due testi non solo si vuole dare antichità pre-davidica, un'antichità che come ho detto affonda le radici fin nel terreno di partenza, i patriarchi, il terreno di partenza di Israele, ma si vuole aggiungere qualcosa di più, si vuole affermare una specie di sacerdozio del re, diverso dal sacerdozio che era proprio di Aronne, cioè proprio della tribù di Levi. Noi sappiamo che Davide non era della tribù di Levi, viene dalla tribù di Giuda. Ecco allora questa operazione, come vedete, teologica che si fa attorno a Gerusalemme, ma Gerusalemme in realtà era una città pagana, qualsiasi. L'unico elemento che aveva suo vantaggio era che si presentava come una città imprendibile. Al di là del lato settentrionale era una città proprio ad acropoli, che sorgeva su una rocca, una rupe. Da una parte correva, sulla parte orientale correva, ancora oggi corre, il Cedron, la valle del Cedron. Dall'altra parte c'era la valle, quella che sarà chiamata poi dopo la valle Geben Hinnon, la valle della Genna, che poi confluivano e andavano verso il sud. Era quindi uno sperone roccioso messo tra due grandi, profondissime valli. E proprio per questo motivo, quando vedono questo gruppo di evrei che tenta di assediare la loro città, i Jebusei si mettono a sghignazzare. Ascoltiamo il testo che è estremamente oscuro. Possiamo dire, uno studioso ha detto che il testo che ora leggiamo, io leggo soltanto alcuni versetti, è stato assediato dagli studiosi molto più di quanto abbia fatto Davide per la città di Gerusalemme. È un testo anche corrotto, non si... perché probabilmente la memoria antichissima è stata trasmessa anche quando non la si capiva più nei particolari. Io comincio a leggervi i versetti 6-9 che sono gli elementi principali della conquista. Il re e i suoi uomini, re Davide, mossero verso Gerusalemme contro i Jebusei che abitavano in quel paese. Costoro dissero a Davide, non entrerai qui, basteranno i ciechi e gli zoppi a respingerti per dire, vedete c'è anche la spiegazione del proverbio, Davide non potrà entrare qui e invece Davide prese la rocca di Sion, cioè la città di Davide, quella che si chiamerà poi la città di Davide. Davide in quel giorno proclamò, chiunque colpirà i Jebusei e li raggiungerà attraverso il canale? Come vedete il testo è corrotto, questo punto è un testo spezzato. Quanto ai ciechi e agli zoppi sono in odio a Davide, per questo dicono il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Potete ben immaginare che con un testo così non è molto facile riuscire a capire cosa voglia dire. La soluzione anche sulla base della comparazione che noi possiamo avere col racconto parallelo delle cronache, del libro sacerdotale delle cronache, più o meno è stato ricostruito così l'evento da parte degli studiosi. Essi erano certissimi i Jebusei della inconquistabilità della loro città. Per cui mentre vedono l'assedio si mettono a ironizzare e a gridare dicendo appunto bastano ciechi e zoppi a respingervi, tanto è impossibile che voi entriate. Se non che ecco l'astuzio. Davide riesce a capire che esiste un punto debole. Qual è il punto debole? Trattandosi di una città posta su un acropo il problema è sempre quella dell'acqua. Basti visitare Megiddo per capire quale straordinaria opera di ingegneria idraulica hanno fatto allora per riuscire a trovare l'acqua in basso fuori della rocca senza che se ne accorga dall'esterno attraverso uno scavo terribile, un tunnel profondissimo e condotto con estrema abilità, disegnato con estrema abilità. Anche a Gerusalemme c'era la stessa cosa. C'era un canale che scendeva in basso a prendere probabilmente l'acqua forse della piscina di Siloe, l'acqua del Gihon. Naturalmente tutto sotterraneo in modo che non si vedesse. Davide riesce a identificare il punto dove c'era la sorgente e il canale che poi permetteva di scendere con le anfore a prendere l'acqua. E allora ecco, ecco si spiega allora chiunque colpirà i Gebusei e li raggiungerà attraverso il canale. E alla fine il proverbio. Quando lui ha conquistato la città allora c'è quel proverbio. Il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Un proverbio popolare di cui non sappiamo esattamente il significato che però vuole ammiccare a quella dichiarazione che era stata fatta dai Gebusei. Il cieco e lo zoppo ritornano ancora in scena ma questa volta per dire che sono, che non entreranno mai in Gerusalemme perché ormai la città è stata del tutto conquistata. Ecco un racconto come ho detto oscuro ma che ha in sé un elemento evidente. L'elemento evidente è la conquista. Ma andiamo ancora avanti e vediamo che Davide non è contento soltanto di aver conquistato. vuole qualcosa di più. E questo qualcosa di più egli lo rappresenta attraverso la consacrazione della capitale. È ovvio che devo costituire non solo un centro politico ma anche un centro religioso. Lì non c'è nessuna memoria dei patriarchi. Come posso far sì che qui ci sia un centro nel quale a fiumane tutti gli ebrei dispersi per le altre regioni vengano in pellegrinaggio? Ed ecco allora la sua seconda scelta sempre riguardante la capitale Gerusalemme. Una scelta felicissima. Egli decide di traslare, di trasferire l'arca, l'arca che era considerata il santuario mobile del deserto e che era stata presa dai filistei, poi riconsegnata ancora agli ebrei e che era andata a finire in una casa privata, in una sede privata. Egli decide di trasferirla solennemente, processionalmente a Sion. E il capitolo sesto che io vi invito a leggere attentamente è la descrizione solenne, epica di questa traslazione. Pensate, c'è una curiosità. Mi spiace di non avere tempo di potervi leggere e commentare un salmo che vi invito comunque ad ascoltare per vostro conto. È il salmo 132. Ebbene, secondo alcuni studiosi il salmo 132 conserva ancora l'eco almeno o comunque la trama originale di quella famosa processione. Era il canto che veniva intonato mentre l'arca lentamente passando di villaggio in villaggio e sostando qua e là processionalmente s'avviava ad entrare nella città di Davide, nella capitale appena costituita. Nel versetto 7 di questo racconto c'è anche un episodio abbastanza curioso che a prima vista può sembrare sconcertante mentre per il narratore era semplicissimo. Usa, un tale, stese la mano vedendo l'arca che pencolava, che stava per cadere mentre veniva trasportata coi buoi processionalmente. L'ira del signore si accese contro Usa ed egli morì sul posto presso l'arca. L'arca poi sosterà tre mesi nella casa di Obededon. Perché questa specie di elettricità fulminante che esce dall'arca? Ecco qui avete un esempio, una testimonianza, è stata un racconto molto antico. Perché c'è ancora il concetto sacrale arcaico, il concetto sacrale magico. Voi vedete l'arca è la sede per eccellenza della presenza della divinità nell'interno della storia dello spazio. Nessuno può varcare quello spazio, nessuno può toccare quell'oggetto se non ha in sé un sigillo particolare divino, detto in altri termini, se non è consacrato, se non è un sacerdote. Ed ecco allora il giudizio di Dio su quest'uomo il quale si arroga quasi una funzione sacerdotale, un modo molto primitivo per rappresentare il mistero del sacro. Pensate tutte le riflessioni che sono state fatte dal punto di vista filosofico, antropologico, di antropologia culturale, che sono state fatte di teologia, sul concetto di sacro. Il sacro che precede la coscienza stessa dell'uomo, il sacro che è in sé un'energia dirompente, il sacro e la violenza. Pensiamo ai libri, tutta la riflessione che è stata fatta da questo filosofo antropologo che è René Girard proprio riguardo a queste connessioni strane tra la magia e il sacro, tra il sacro soprattutto e il sacrificio, il sacrificio cruento e la violenza. L'arca giunge finalmente alla meta. Allora, ascoltiamo soltanto alcuni versi di questo approdo sul colle santo. Da quel momento in avanti diventerà il colle più amato dagli ebrei per tutti i tempi, in tutti i tempi e in tutti i giorni, della loro esistenza fino ai nostri giorni e devo dire che sempre guardando quella spianata, per quanto se si è appena appena uomini che hanno letto qualcosa dei testi librici o che comunque hanno respirato qualcosa della cultura occidentale, che è pur sempre intrisa di Bibbia, guardando quella spianata che ora è segnata dalle moschee, l'emozione però è sempre forte. Tant'è vero che Mark Twain diceva, scrittore americano diceva, mio padre quando era in chiesa cantava Sion, cantava Gerusalemme con un amore, con una passione come se fosse stata la sua patria, la sua terra e il suo paese e non l'aveva mai vista e non l'avrebbe mai vista. Eppure l'amore era tutto per quella lontanissima e remota e per lui inesistente quasi città, non aveva mai avuto la possibilità di sperimentarla, eppure restava come il grande referente della speranza. Ecco i versetti 14-19. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino, difficile dire cosa sia perché ci sono interpretazioni e anche usi diversi dell'efod. L'efod probabilmente era una specie di abito rituale, di veste rituale, di tunica rituale, di manto rituale, di rocchetto quasi. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono l'arca del Signore con tripudi e suoni di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardò dalla finestra. Vedendo il re Davide che saltava e danzava dinnanzi al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Vedete che riappare il filo nero della tensione tra la famiglia di Saul e Davide. Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto in mezzo alla tenda che Davide aveva piantata per essa. Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. E quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò ciascuno a casa sua con questa grande festa popolare che sigilla l'ingresso dell'arca nel futuro, in quello che sarà il futuro Tempio di Gerusalemme, quello che egli non può costruire. E abbiamo parlato di Tempio. Siamo dunque, dopo aver visto Davide Re, nominato Re, con le sue scelte politiche, con la scelta politico-religiosa della Capitale, ecco il secondo grande quadro, quello dei capitoli 7-12. Quel quadro che noi ora cercheremo soltanto di abbozzare e che ha al suo interno un altro gioiello letterario in assoluto, che è diventato anche uno dei grandi temi dell'arte di tutti i tempi. Intitoliamo questo grande quadro che ora appare davanti ai nostri occhi per il capitolo 7-12, promessa e peccato. Promessa innanzitutto ed è il celebre capitolo settimo. Un capitolo sul quale abbiamo avuto occasione anche noi nell'interno del nostro lunghissimo percorso nell'interno della Bibbia di fare riferimento e non solo, di fare anche alcune volte analisi. È il famoso oracolo di Nathan. Nathan è il profeta di corte. Cominciamo a sottolineare questa presenza. Il profeta di corte noi ce lo immaginiamo come un violino del regime. Per ora a prima vista sembrerebbe così, poi lo vedremo ben presto, emergere in tutta la sua statura di profeta, cioè uomo libero, colui che ha il coraggio rischiando la vita di puntare l'indice anche contro il sovrano. E questo sarà il destino di tutti i profeti, essere in contraddizione, in contrapposizione, aspra col potere. E il potere vedrà sempre il profeta, di cui avrà bisogno, ricordate Saul che va a cercarlo anche da morto, va a cercarlo lo spettro di Samuere, di cui avrà sempre bisogno, lo vedrà sempre come il suo antipodo, la sua antitesi, come la sua coscienza che rimorde, che artiglia continuamente, che impedisce di stare tranquilli. E con noi ora di questo capitolo settimo daremo soltanto gli elementi principali per la lettura. Io vi invito a leggerlo tenendo presente in parallelo, questo capitolo settimo, un altro salmo che ha ripreso, ha riletto, ha ricantato l'oracolo di Nathan. Si tratta del salmo 89. In particolare leggete i versetti 21-38 e vi accorgerete di una cosa, che ormai la monarchia è finita. Il cantore con malinconia ricorda i tempi in cui c'era Davide e c'era il re, ma la sua speranza non muore perché dice se c'è stata una promessa, questa promessa continuerà e continuerà nel re Messia. Per cui l'alleanza stabilita con Davide diventa l'anticipazione dell'alleanza con il re Messia futuro. Il testo, come tutti sanno, quelli che l'hanno già letto, è un testo famosissimo, si usa spesso nella nostra liturgia anche, ha come punto di partenza un simbolo, un simbolo che in ebraico si dice con una parola che voi tutti conoscete senza saperlo. Voi infatti voi tutti conoscete la parola betlemme. La parola betlemme si compone di due termini in ebraico. Bet e lechem, lechem forse vuol dire pane anche se cibo, anche se il significato probabilmente originale era un altro. Bet vuol dire casa. Ecco tutto si giocherà sulla parola bait, bet, che significa casa. Davide ha ormai la sua capitale, ha bisogno però come fanno tutte le grandi capitali dell'antico oriente, di avere sull'acropoli, sulla collina sua, la collina di Davide, Sion, di avere un grande colossale tempio alla sua divinità, al suo Dio. E naturalmente il profeta a prima vista gli dice sì va bene fa pure così, ma nella notte il Signore compare a Nata e gli dice no tu andrai da Davide e gli dirai tu non costruirai nessuna casa a me. Tenete presente adesso il primo significato facile anche da comprendere. Casa è il tempio, la casa di Dio. Ricordate quel luogo in cui aveva avuto una visione Giacobbe mentre stava andando esule, inseguito dalla persecuzione del fratello Esau? Quel luogo si chiamava Betel. Betel in ebraico significa casa, bet, el, Dio, di Dio. Natan si deve presentare probabilmente un po' tremebondo a Davide e dirgli no il Signore non vuole che tu gli costruisca una casa, cioè un tempio. E Davide si sorprende ma subito dopo l'oracolo continua e l'oracolo nell'interno soprattutto dei primi sedici versetti è la rappresentazione della casa, casa, bet, bait sempre, che Dio costruirà Davide. E questa casa che egli costruirà altro non è che il casato, cioè la dinastia in cui egli, Dio, si renderà presente. Voi vedete che avviene un gioco simbolico attorno all'unico termine, un gioco che ha una rilevanza teologica altissima e che rivela l'assoluta originalità della concezione religiosa biblica. Non dimentichiamo mai popolo di pecorai, sì, popolo di nomadi, popolo di uomini della steppa ma straordinariamente sensibile al mistero. E i credenti dicono straordinariamente ispirato da Dio. Infatti la concezione spaziale e sacrale è una concezione che hanno tutti i popoli dell'Antico Oriente, che hanno avuto tutti, dai primitivi in avanti, il primo lavoro che si fa è quello di circoscrivere un perimetro entro il quale si abbia la casa del Dio, ci sia la presenza della divinità, cosa che non è da condannare, se è vero che poi Salomone costruirà il Tempio. Ma Israele, il Dio di Israele e Israele, ha la consapevolezza che il vero Tempio in cui Dio autenticamente è presente è il casato, cioè è la sequenza degli anelli genealogici, è la continuità della storia, è la continuità degli uomini, è nell'interno della carne degli uomini che si erge il Tempio più alto. Voi vedete il trapasso dalla spazialità e lo spazio è sempre esterno a noi, è sempre qualcosa che ci fascia, che noi non possediamo. Dalla spazialità si passa alla temporalità, al tempo, e il tempo come ben sapete, non il tempo cronologico che non ci interessa, il tempo atomico, il tempo nel senso storico del termine è la realtà che più inerisce a noi, è la nostra pelle, la nostra carne, il nostro sangue, la nostra esistenza. Perché quell'ora che sta passando ora da quando voi vi siete seduti per ascoltarmi non è l'ora astronomica che questa notte perderemo, è invece l'ora per eccellenza della storia di ognuno di noi, un'ora preziosissima, un'ora irrepetibile, un'ora che comprime sempre di più il nostro percorso verso la morte, verso la fine, che lo rende sempre più accelerato. Ed è per questo motivo che allora la Bibbia esalta la presenza di Dio nell'umanità. Non è forse vero che possiamo dire, proprio attraverso questa pagina, che abbiamo in questa pagina la testimonianza più alta dell'Antico Testamento della incarnazione, se Dio afferma che sceglie di essere presente nell'interno della tua casa, cioè della tua storia, cioè del tuo tempo, cioè di questa realtà così fragile, così personale, così esistenziale. Com'è il tempo? Davide risponde, mi spiace di non leggere questa pagina, ma la lascio a voi perché voglio che questa pagina sia letta attentamente, essendo uno dei grandi riferimenti poi della teologia dell'incarnazione. Il verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi, dirà Giovanni 1,14, riassumendo l'intero dettato del capitolo settimo dell'oracolo di Nata. E questa connessione, tra parentesi, è una connessione che mostra come Antico e Nuovo Testamento siano continuamente in dialogo e in osmosi. Io non ho potuto fare prima perché queste nostre sono solo letture quasi di superficie, non sono delle esegese curate, ma avrei potuto dimostrarvi, come è stato dimostrato da uno studio di un esegete francese, che la narrazione per esempio dell'ingresso dell'arca a Gerusalemme è tenuta del tutto in filigrana, ma proprio con citazioni di espressioni, e voi non lo immaginereste mai, nella narrazione dell'arrivo alla casa di Elisabetta di Maria, incinta di Gesù, che va da Elisabetta incinta del Battista. Persino la notazione cronologica, quanti mesi resta Maria da Elisabetta, resta tre mesi. E io prima, incidentalmente, ho lasciato cadere questa notizia, l'arca resta tre mesi nella casa di Obed Edom, ma è tutto il linguaggio, il lessico, per cui l'Antico e il Nuovo Testamento, come vedete, si sentono profondamente in connessione, per cui dobbiamo stare attenti a non considerare i Vangeli semplicemente come se fossero delle notazioni storiche, un racconto biografico, di quanto è successo, è qualcosa di molto più alto, è molto più profondo. Sì, gli eventi ci sono, ma sono sottoposti a questa reinterpretazione. Il fatto interessa poco, interessa l'evento, l'interpretazione dell'evento. Ecco la connessione poi tra il capitolo VII e Giovanni in capitolo I. Davide come risponde? Davide, vedrete nei versetti 19 e 29, risponde con una orazione diffusa, che miscela tutti i generi, il ringraziamento, la supplica, la fine, l'impetrazione della benedizione. Per dieci volte egli si presenta, notate bene questa espressione, è un'espressione, dobbiamo dire, che dal punto di vista strettamente letterario è un'espressione di politessa, è un'espressione di cortesia dei confronti del grande re. Egli, il re, si riconosce dipendente dal grande re che è il Signore e si definisce sempre abdeca, il tuo servo. E quando si mette, anche noi usiamo al termine delle lettere, il suo, il vostro affezionativo, un'espressione di questo genere, di devozione, semplicemente. Però, nell'interno di questa pagina non ha questo significato. Pensate, nella risposta dei versetti 19 e 29 all'oracolo di Nathan che Davide pronuncia, per dieci volte, numero perfetto, egli ripete io sono il servo del Signore. E voi cominciate a capire che qui c'è un'allusione teologica che permetterà di capire tante altre pagine, tante altre figure dell'Antico Testamento e del Nuovo. Il servo del Signore. Servo del Signore era Abramo, servo del Signore era Mosè, servo del Signore è chiamato Giosuè, servo del Signore sono i profeti, servo del Signore si chiama David, un titolo di grande nobiltà, il ministro del Signore, consapevole di avere una funzione straordinaria da compiere nell'interno della storia della salvezza. E alla fine, in quella pagina oscura, in quelle pagine oscure, misteriose, variamente interpretate, di Isaia, capitolo 42, 49, 50 e 53, ecco che entra in scena il servo del Signore, i cui contorni, la cui fisionomia, il cui profilo è sempre più quello del Messia stesso. E negli Atti degli Apostoli il servo Gesù è chiamato così. E Maria, in quel giorno famoso della sua annunciazione, probabilmente, come ho avuto spesse volte occasione di dire quando dice ecco io sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la sua parola, non ha voluto semplicemente dire sono una poveraccia, sono l'ultima delle donne, queste indicazioni di solito, un po' anche qualche volta con venature antifeministe che vengono usate nei confronti della figura di Maria, ridotta a essere emblema, esempio soprattutto per le donne, di umiltà. Certo Maria è anche umile se si vuole, ma in quel momento la sua è una dichiarazione di nobiltà, è una dichiarazione di grandezza, è l'affermazione della consapevolezza di essere nella linea dei grandi servi della storia, dei servi del Signore che hanno da compiere una parola, in questo caso una parola suprema. E concludo con i versetti, leggo soltanto due versetti di questa risposta e di questo capitolo. Capitolo settimo lo leggo nei versetti 28-29 Ora Signore, Tu sei Dio, le Tue parole sono verità e hai promesso questo bene al Tuo servo. Degnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo. Notate tutto il riferimento teologico servo e la casa, è l'ultima parola quasi che dice, perché sussista sempre davanti a te. Curiosa questa miscela tra casa, tempo, finitudine, contingenza, limitatezza, creaturalità e sussista per sempre, perché c'è la presenza di Dio l'Eterno. Poiché Tu Signore hai parlato e per la Tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. A questo punto entra in scena il peccato. Io naturalmente come l'ultima volta, finendo, abbiamo lasciato un po' in sospensione la lettura dicendo che avevamo di fronte quell'inno, quel cantico, quelle legia superba che è il cantico di Davide per la morte di Saul e di Gionata, così anche ora vi dico che abbiamo di fronte a noi un testo che leggeremo la prossima volta e spero di poter leggere integralmente i capitoli 11 e 12 che sono in assoluto uno dei grandi capolavori della narrativa ebraica. Per ora io vorrei soltanto dire una cosa. Cominciate già a leggere questo testo, vi accorgerete che è un testo quasi sempre ben scandito a atti, a scene che si succedono l'una dopo l'altra, di solito con due personaggi che recitano. C'è già una vera e propria sceneggiatura, già delineata, già definita, ma soprattutto c'è un ritratto di Davide, di una umanità sconcertante e anche per certi aspetti scandalosa. Davide appare lentamente a partire da quel pomeriggio assonnato e assolato di Gerusalemme in cui i suoi occhi si fissano su questa donna indimenticabile e bellissima. Da quel momento comincia per lui un vero e pro una vera e propria discesa agli inferi. Egli passerà da quel momento di delitto in delitto, di vergogna in vergogna, continuando, e questa è la finezza psicologica del racconto, a rivestirsi col manto dell'ipocrisia. E l'ipocrisia, quando uno è al potere, si chiama la ragion di stato. Qualche tempo fa, qualche tempo fa è uscito, tradotto in italiano, da una editrice benemerita perché fa conoscere tutte le letterature scandinave, l'editrice di Iper Borea che ha sede qui a Milano, è uscito un romanzo intitolato Betsabea di un autore svedese, Torni Lindgren. Io mi ricordo di averlo letto allora, di averlo ricevuto, di averlo letto, idealmente raccogliendo, immaginate tutte le scene con tutti questi brividi erotici che ha avuto la scena di Betsabea, di Davide, Betsabea nuda che fa il bagno nell'interno della storia dell'arte. E posso dire e voi sicuramente ve ne accorgerete rileggendo queste pagine, che dopo aver letto quel lungo romanzo, pieno di sensualità anche e anche di teologia, pieno anche di abilità letteraria moderna, ciò che si prova è la grande nostalgia, una grande nostalgia per il testo straordinario e unico della Bibbia. E vedremo se la prossima volta questo lo confermeremo.